ah però c'è solo quartetti raga, non c'è terzetti, non c'è niente I've been doing my own thing, love is always a way of having bad timing But to my great surprise, never since I looked in your eyes, I had one question for you Tell me if you want me to, give you all my time, I wanna make it good for you Cause you blow my mind, I promise for that I'll be true, you're the perfect fight Tell me if you want me to, yeah Ragazzi buongiorno, buongiorno a tutti, ma ciao Finalmente ci hanno rimesso Revit di giorno ragazzi, finalmente, Activision ce l'ho fatta Bella Paola Ciao Laura, buongiorno, buongiorno, ciao Tommaso Buongiorno Come stai, Laura, tutto bene? Bella Tommaso Raimondo, grazie per la condivisione, gentilissimo, buongiorno, ciao Flavio Bella Paolo, buongiorno, buongiorno Bella Marco, Andrea, grazie per il like Michelina, eccola qui, non vedo il commento, ma grazie per il like, buongiorno Come state? Bonjour Ragazzi, un attire ne voglio in tanti, eccolo qui, Paolo, Araia, 75 stelle Thank you Grazie, Paolo, sei gentilissimo Grazie mille Simone è bitondo Ma Simone, tu sei a bichese, io lo so, sei Simone che conosco Buongiorno, ciao Antonio Good morning Allora Ragazzi, sono in crisi perché non so che cazzo di armi devo usare Sappiamo? Uè, grande, bamba riposati, minchia, bamba Qua ci vuole tipo un retargo infinito Ciao Nico, buongiorno Ma Simone, sei tu? Ma non sei tu? Dimmi la verità Che sì, Paolo col bot, raga Sto a massimo, grazie per la condivisione, gentilissimo Allora, raga Noi Vediamo un po' quello Ma secondo me, raga, non è mattina ora C'è il tramonto Pur, beppe E infatti Mamma mia C'è sempre il sole, ragazzi Siamo sempre in after qui Davide Pagano What's up, man? Ciao Giorgio Buongiorno Ma uno spam di Seekers Di una mattina non lo vogliamo fare, raga Appena svegli proprio Oh, io a terra e trovo il pipì Questo è il destino Merda, mi sento tra la chiesa Ragazzi, non mi cresca il pipì No E che ci faceva questo qua? Ero a terra Sono crackhead, ragazzi Sono crackhead Come se vuoi Non ci credo Vabbè, no, raga Non ci credo che Matteo Kama Cioè, ragazzi Non potete capire Mi dovevo raccontare una cosa Matteo Kama Una volta Ci sopportava E sopportava Tantissimo Ma non solo Cioè, a me e Martina Insieme, raga Contemporaneamente Kama Non c'è per tenta che sei qui Marti Buongiorno Come stai, Marti? Come vanno le cose? Raga, facciamo il log di sotto? Di qua? Di sotto Ok Black, give me money Ma tu sei inutile, Black Raga, ma hanno cambiato il pavimento su... Ma come lo vedete il pavimento qua per terra? Hai cambiato? Grigio No, no, io lo vedo diverso, raga Oh mio Dio Allora, non so se c'è su Sfinita Ma infatti immagino, Marti Immagino, immagino Commetto che non è facile Grazie Non ci credo, Davide Davide, grazie per le 50 Gentilissima È vero, Kama Kama ti voglio regalare la sub Dai Arrivo, arrivo Kama, dai Fai sta sub Oppure te la regalo io È un buongiorno Non ci credo pure lì Un buongiorno Raga, vi faccio vedere come si snipera qui Non così però Non così come ho fatto io Ma chi va a mettere le piastre così? Il mio ragazzo Io ne ho due qui Nonna, raga Ciao Mary Raga, noi adesso è parte del party, eh Siamo per tutta volta a farli party Ho sentito Ho sentito Una lasciata Ancora 25 Non voglio arrederti Bravi raga, bravissimi Bravi, bravi, bravi Facciamo il lobby Io credo che ce n'è uno allo shop Tieni i soldi Allora Oh, Giuseppe, grazie per le cento Sei gentilissimo Thank you Raga, ma il lobby lo volete fare Mi serve l'assistenza tecnica Vabbè, è arrivato Ultima, lo d'out Ultima, l'oddio, raga Eccolo, il 500 Guarda voi Sto subendo il fuoco nemico No, dammela Che camper Nell'angolino, raga Dai un bastardone Ricky, buenos dias oh buon dia ciao Kevin, buongiorno perfetto, questo ci ha fatto a tutti allora, Michele, buongiorno ah ma c'è pure il nabbo attenzione ragà però c'è il party, non lo stiamo completando abbiamo un minuto per completare sto party buongiorno Danilo, una stella per ogni Adriano nabbo in chat minchia, faccio uno spam infinito allora non ci credo, Sharon buongiorno come state? si è carica stamattina Elia, mi sono appena sbiliata in coma quindi magari le prime due dai abbonatecele le prime due ce le abbonate raga le voglio bene a tutti esatto esatto dai calma, facci uno challenge vai di Tisano allora, minchia ah diciamo, ciao Giulio, buongiorno tutto bene, tutto bene preparate l'attrezzatura facciamo ok ragazzi, allora facciamo così, fai 10 stelle ragazzi, dobbiamo spammare appunto da punto esclamativo hashtag adenabolizazza dai ragazzi, spammiamo questa cosa ve la faccio vedere come dai ciao Francesco, grazie per i like buongiorno bello studio benchino per il muro tocca ancora a se vuoi dire che è un po' di più ma è caello ragazzi, spammate il nabbo dai eh oh dimitri, buongiorno ciao franci, ragazzi dovevi spammare in chat adri nabbo ritorno, disegnato di un nabbo brava Sharon, mi sarebbe una grande iniziate a correre comprami lente per farvi schierare in confermativo oh te lo in quattro ah, fermi ecco ma è il minuto ha arrivato un nabbo 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 tira tira mamma mia raga ma cosa è che succede sta mese con le robe? no la gente più rettiva di me non va bene bravo francese un grande grazie io vado tende ce n'è una tende guardate guys miglia la sacco è trovato un solo l'ho trovato guarda un bombi su control mamma mia la blix è nella mia arma ma la blix è nella mia arma bassa punto contro top 1 no porca troia uno secondo piano rega ve lo fate? ok bravissima oh francesca buongiorno laura buongiorno guarda qua c'era una blix guarda non ne viva questo per te troia secondo piano rega ma c'era tutti in mancola si si ce l'ho la classica il tp ragazzi si tro buongiorno santo ma il log è stabile c'è il log è solo ma no 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 non fermo nemmeno non abbiamo lo shop andiamo a nuova raga non c'è lo shop manca a nuova andiamo a nonna raga a nonna a nonna si si la c'è no no c'è un posto nico puoi venire grazie francesca sei un amore sei grazie per dirmi queste bellissime cose in un periodo così mi fa piacere e lo scammo ma e il fenomeno che fa che mi sono di e nico in arrivo ne darà andiamo a dare gli armi degli alfa l'amore nemico individuato nella vostra nico individuato nella vostra l'amore l'amore sono player raga io vado a nuova raga a a a a a a a a a no 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 non ci credo gilda sei un amore sei grazie per le 100 bellissimo ciao robin buongiorno e raga andiamo sopra se siamo fuori sei brutto però andiamo a nonno va benissimo il nemico ti sta abbraccando andiamo verso il lotto raga arbor c'è gente raga pure però pure prison stop prison guardate come muore raga guardate come muore raga oh facciamo gli stili da qua sotto guarda mi raggiungo mi raggiungo mi chiede raga mi avete abbandonato non è disponibile no ma mamma mia raga oh no ma a zero sei morto Che strano, cazzo, l'ho pure confermato Che cazzo, regalo In che gli ho dato un'arma Berla a quello, ma nice Ah, Nico, dimmi quando ci sei che adesco, ok? Cama, non fare così Che Pepe emoziona se inizia a mandare Tutte 50 stelline, cama, te lo dico Ok? Benedetto Buongiorno, come state, ragazzo? T'accosto? Ciao, Carlos Buongiorno Buongiorno Ragazzi, comunque voglio più Adrina, buon chat No, caramba, quando hai fatto la sub e giochiamo insieme, scusa O giochiamo in balsa Wey, Francesco, buongiorno Comunque il pepe che ha racconto era più forte del mio, non capisco Beh, che lo ha più di male Io non capisco perché le armi degli altri sono sempre le più forti A me piace le lobby nab Ma sei una potenza, oddio, grazie Grazie, grazie, ma devo ancora esplodere come potenza, secondo me Se io sto in corretto, non mi piacere mai le cose Grazie Allo Allo, stichiamo, Alessandro, scusa Vale, grazie mille Franci, come va? E' un altro posto Bella Ross, da quanto tempo Ross? Scrivimi qualcosa Ross, come stai? Sì, ma che è tuo marito su GTA? In che senso? Buongiorno Angelo Ciao Giuseppe Mamma mia Ci spazzo, Kamma, guarda Kamma, tu sei questo Ti prendo Anzi, sei questo qua Ti prendo e ti... Bullizzo un po' Ti faccio una bella 619 619 in cucina veramente Franci? dopo le mattina c'è Martina io dovrei esserci nel polizio se io era ragazza non mi piace per aver guardato per aver guardato e non mi piace ma che ci devo essere inizio ma che ci devo essere inizio 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 va bene ritorno stiamo con Sagit raga mamma mia rega ma c'è pure mio zio ah ok non è che sono morto c'è un soldato nevito la priorità è uccidere tutti i nemici inizio 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 anzio mamma mia che c'è un draffolo ma una cosa 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 perciò questa cosa dai come tutti mi attende ma non mi attacca weee ma che buongiorno raga apri la casa tiro di junk raga tende pull è un po' un caos mi spieghi che stiamo facendo? guarda ti do i soldi guarda vieni qua ti do i miei soldi ti posso dare 30 di munizioni questo c'ho tu che mi puoi dare? quello c'hai pure tu? vieni con me vieni 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 con me vieni 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 no muori vieni vieni scappa scappa no raga non uccide del mio amico vieni vieni con me fratello vieni 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 ti proteggo io raga ho fatto amicizia prima volta in vita mia ora gli do una piastra questo qui tieni fratello vieni 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 quella è la destrazione quella è la destrazione è sempre più vicino vai piastra di vieni 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 mi puntano vieni 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 I rinforzi sono in arrivo! Raga, non c'è il mio amico! Ho fatto amicissimo! E' stato bellissimo! Aggiungo un segreto! No, calma! Ciao Robby, buongiorno! E' il mio amico! Ciao Leo! Adria, ehm... Adria, non hai capito cosa è successo! Ho fatto amicista con un nemico e stavamo uccidendo insieme! Cioè, è arrivato sto saggiz e l'ha ucciso, sto stronzo! E' il mio amico ha ucciso! E' il mio amico ha ucciso! Hanno vatti le d'auto qua! Che cosa è? No, non c'è! ...della squadra in rietro! Identità del bersaglio confermato! Rod out come è infattibile o infattibile? Rod out è libero ma su un nuovo mi fanno! ... 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 raga perché sono violenti anche se non so chissà cosa perché sono horror più violenti o cose così comunque è molto molto crudo cioè in certe scene mi collego e fai guido non ringraziare ne andrea grazie allora eh però io ho già le prime scene sono così io sono freddi i colombiani bella filmone mamma mia stefano è praticamente ragazzi è una bomba di film ma c'è una delle cose che mi fanno tra poco il mio punto di vista vi posso chiedere qual è secondo me una cosa che ho notato in questo film è come molte persone nonostante siano in compagnia ok siano realmente sole ok e di come hanno bisogno di aiuto queste persone come Tony la fine che è impazzito come la ragazza la moglie diciamo che è una drogata poi sono un sacco di persone che avevano bisogno di aiuto ma che non sono riuscite magari a chiederlo o perlomeno non non lo so mi sono molto chiesto da questa cosa che magari c'era bisogno di qualcuno che gli dava aiuto capito? di quattone di farla ragionare alla moglie di farla riprendere e di quanto labbra la vita brevissima cioè breve ma intensa no sono davvero sono davvero bene d'accordo mai sono più forte dai buongiorno Micky Vabbè ma non siamo qui in che parla Inizia la vera battaglia Esatto Pi 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 papà papà Questi vede 100 Però esatto Sì non ho avuto una bella adolescenza E nonostante sono sempre stato in compagnia E nonostante sono sempre stato solo E questo mi erano ne ha toccato Sotto operazione per questo Inoltre che entra da dietro Secondo piano Sopra sopra Lascio il defianto con l'ho già Ok Per un venditore Dovete ricordarmi Scarface Si chiama scarface Io pure sono uscita da una brutta adolescenza E comunque un po' mi ha toccato Adesso che sono cresciuta Ragazzi su torre Ragazzi su prison Dobbiamo andare Qua c'è torre Mertaccio Un altro Sì mi fa sbagliare Dove? Sono su Sì mi fa sbagliare guarda che non lascia qua vabbè raga vanno fuori altri dietro un altro un altro bravissimo non ci credo grazie buongiorno dove è melania non la vedo non leggo ne like ne goff gancio buongiorno buongiorno si si dai occhio a rabbi davanti a te avete colpi cieco per caso ragazzi ciao vincenzo buongiorno io ce l'ho ragazzo che grazie ciao chi sei qua sotto di te arrivo andiamo sopra vai andiamo raga consigliatemi un primo attrezzatura miglioriamo l'attrezzatura però non di droga di odio né di droga né di amore grazie una ostemia stai salendo stai salendo a fare il palico il fuori di raga fine ricerca rientro alla base raga guardatevi stacchi li prego sotto di me è uno se ne è uno qua da me a sinistra dove vai ho fatto ora non ci puoi credere boccione dell'acqua nooo nooo oddio 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 alessandro grazie per le cento thank you c'è gente qua raga a lodi o ad arbor no no davanti dai guarda che mi sento a strada non ci credo il lodi come è libero? se si è libero però ci sento qua davanti oddio 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 Sì, vabbè. Raga non l'avevo visto, ve lo giuro, ma dove cazzo era questo? E' uno robbie, e' uno? No, due, due No, sono due, ma anche più, due sicuri Veramente? Sembra che sono bionda A cibo, a cibo Sì, sono tutti sopra Come state, raga? Stai bene? Ma qua il team che manda le stelle non dice più niente Alessandro, pure tu, grazie per la gente, gentilissimo Colletta ha appena visto il messaggio Ehm, me la lascia perdere Colletta che a volte e' un po' inopportuno Raga, che cosa tu sciogli di bello? Eh, io son qua Eh, io l'ho fatto, vabbè, l'altro C'è un sacco di gente a top C'è un sacco di gente a top Rimposti disattivati E' un sacco di morte Guardi me, raga si sono tutti su non mi fare così però ragazzo vai vai chill ma chill più e meno di sopra quindi John Wayne raga comunque sono troppo contenta che hanno rimesso i reverti di giorno perché di notte mi stava venendo vado a mangiare ah vai a mangiare buongiorno allora oh vi saluta Michele raga comunque non voglio piangere Andrea un film profondo ma non voglio piangere piangere ciao Lori buongiorno guarda il quarto tipo mi sa che l'ho visto capire incontri del quarto tipo si chiamano il quarto tipo mi sa che l'ho visto raga non si vedeva niente orribile ciao Quentin minato lo sai che io se l'avevo il pap di minato no minato scusa mi girai non è Marta ma mi sa che qualcuno è che vuole giocare fatemi sapere così che organizziamo no, io l'unico anime che ho visto ragazzi è Naruto che sto ancora finendo e mi sono detto Tekken che hanno messo su Netflix ragazzi è bellissimo in testella non ho visto in testella non ho visto madonna, madonna tu non puoi avere un film Francesco come stavo se io avevo sonno tre film mi ha fatto passare il sonno sono rimasto alla fine allucinato ma che mi sono facendo un trip il multiverso, il panico bravo Ale comunque ragazzi per tutti i sostenitori io volevo vedere qualche anime insieme tipo una sera alla settimana andiamo sul Discord e ci vediamo qualche anime insieme andiamo andiamo Ok, Quentin, vi devo vedere un sacco di cose, quando sarò meglio, però, un po' di tempo, vi devo prendere Quando non vedi nemici, quando non vedi nemici, non pare, via dietro, ha girato Uno che sale qua da me Sono un grafico Uno da stessa, ragazzi Uno da stessa Qua c'è sotto, ciscolo Ragazzi, possiamo fare il loadout, ho trovato le piastre, ho trovato Due, uno dentro, campionato Ma baff***o, dai, 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 mona, mona, mona Alta piastre Qua sotto Eh, l'ho visto, no, ti è sceso Tranquillo No, Quentin, non hai capito, io sto all'interno del mondo, Giuliani, non è da poter Con la ruta, proprio Con la ruta, proprio Non ci credo, questo Francesco Ci sono io Ci sono io Ci sono io Ci fuero io buongiorno mi chiedono di certo non ci credo francesco buongiorno aspetta è un wrestler film leone d'oro la gilotta tipo gionzina io aspetta il film con gionzina l'ho visto pure con kane che si mangia il telefonino ragazzi voi l'avete mai visto? l'avevi visto? ti ricordi? mi ricordate la scena di quando c'era praticamente kane che fa un film che si mangia il telefonino ero piccola ragazzi così va bene quentin a piangere così vi faccio un bel pianto infinito io raga ho una troppo sensibile piango per non lo so una nave? ah si c'è gente raga andiamo living io sto pushando di fronte a me uno madonna raga due 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 nooo ma come ha fatto sto cerco a farlo io lo so che tu resterai con me ragazzi allora questa mattina ci vuole una challenge non sto scherzando vabbè comunque me li devo vedere tutti sti film me li devo vedere raga ne ho bisogno sapete perché? io accendo netflix raga ma non c'è niente ci sono tutte cose stupide tutte cose proprio con senso va benissimo io non voglio più vedermi cose inutili cioè ormai non ne ho visto così tante magari le cose ci che mi vedo sono aldo giovanni e giacomo big band theory e che cosa l'ho che mi fanno morire no no ma quentin perché io ero diversa adesso mi sto producendo in questi mondi prima ero una cazzona la laura se mi stai niente laura che finì i film che mi piacevano sono i film di tim barton e mi dobbiamo impazzire ma comunque ero diciamo figlio che non ho fatto la storia di niente e del pantadrago ecco raga non mi ha mai niente non mi ricordo della storia di niente e del pantadrago se voi vi ricordate a treio di morti di morti vabbè mi ha ignorato vediamo che dico ma non dicono niente eh vabbè raga eh il pantadrago ah ho capito ok adesso dobbiamo dire il pantadrago si ho capito si ma così piano guarda ragazzi è un puttino uccidete tutti c'è dai non so ancora c'è i forzi sono in arrivo c'è iniziata scopiamo nuovi giocatori c'è iniziata scopiamo nuovi giocatori per i complessi del drago vedi io pure ma non sono ricordata ragazze che mancano cento ma ce l'abbiamo tenete e non mancano 100 e la marta lì adri 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 e daglie cazapiastro serve ma vetti niente andrea ragazzi comunque io voglio sostenitori in chat ci siete vi va se ci vediamo appunto dei film insieme volete la baletta uccile di precisione andiamo tende vediamo come succede raga quello ho trovato 12 mila abbiamo uno paro o elicottero anche uno qua e anche lo qua il primo è sulle tue tracce fa attenzione nessun superstitel a il primo sistema è questo ma tu f***o due f***i ma tu ti sei ma tu ti sei due sotto ragazzi sono eh voglio vedere film con un sinistrato film qui che fanno ridere ok c'è anche fare un sul tetto film dove possiamo dire una roba film 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 ne restano solo 25 vai a posto no 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 tu è la mamma che bellissima ragà non c'è un pulì meno fatti uno e mezzo si è un idrompate eh ok eh si bravo ragazzo buona 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 ragà vado all'odd ma c'è un team c'è gente qua marco è qua sotto a terra ragazzi mi vuole la blitz neanche io ragazzi lo d'auto non venite non venite però io voglio pure le bambine laura te lo dico ragazzi lo d'auto se potete aperto nova lo potete fare no vabbè io forse qualche soldino ce l'avano come se è un povero a quello di sì sì ah no vabbè guardate contro l'inno però meglio vabbè ma porca troia facciamo scherza veniamo sotto non ho armi luca e volevo prendere non vi non ce la faccio che i ragazzi vogliamo una cosa figa però da versi uniti e guardiamo ma poi non c'è nessuno è tutto lui faccio un gratt sono rimasti cazzo bombardamento di precisione alleato attenzione andiamo da nico vieni Marte c'è un team intero eh lì Robby non c'è più non c'è più no no ci sono vabbè ma fanno pena fanno sono tre campari qua dentro ragazzi si 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 bombardano raga io sono andato a Nova per il Loggi che faccio vengo da voi raga te Robby si va bene marta mia c'è stato l'RPG nice ecco è sulle sue tracce fa attenzione guarda 1 il livello guarda 1 il livello ma 3 il livello chiedi polvere mi ha fuciato 1 Occhio che scende Raga tre qua Non andare Sono tre sopra Ho preso la maschera Raga li vedete i piedi qua Sì 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 Sopra no Sopra no Raga siamo quattro contro quei tre là sopra Mi raccomando Andiamo andiamo Io uso la maschera salgo di qua Non li salete tutti in faccia mi raccomando Danci una spottante Li vedete li vedete Eccolo una lì Quella è la rigida Guarda guarda Stamperatissimo La zona sicura per voi Il fissuto Lo aggiungo Sempre più vicino Let's go Li abbiamo spaccati Spappolati Presi E infatti a fettine Ciao Nico Buongiorno Oh mio dio Let's go Vi ho fatto un bel barbecue Secondo me perché mi chiamo Barbie ragazzi Per il barbecue Io sto buona Oh dio Calma grazie per il like C'è non dovevi Minchia Ravaggio scarpezimo Non voglio essere peggio di Tony Enrico Visto quanto è bene il mio naso Fidati che un naso come il mio Tu non ce l'hai Vedete sono invidiosi del mio naso Oh GG raga Così ci sia Ragazzi è una bellissima Camper Camper Ma se il mio frate Ah Ah boh Ma qui Quello è il mio erico Praticamente Mi è immaculata la sé a bibi Ragazzi D-Girls su Facebook Ciao Grazie Ciao naso Ragazzi ma perché Allora io oltre il naso Ho anche una persona Fatemi vedere un attimo Come faccio sto naso E' bellissimo Cioè mai non lo so Guarda Secondo me Quentin Il like adesso si mette Arrivo subito Ragazzi No tozze Poi Tony Montana No mi so io Ragazzi Veramente Siete solo in video Sì Perché poi a mia mamma Mi diceva sempre Che chi è il naso come il mio E' più intelligente degli altri Ecco Quindi Se esplendiosi Questo me lo diceva Quando mi prendevano In giro in classe Ma perché Mi dicono Che c'è il naso così Ma solo perché Tu non sei come gli altri Tu c'hai il naso diverso Vabbè perché Il mio naso è un pochino grande Ma non l'ho scelto io Ragazzi Mi spiace Se avessi potuto Me ne sarei scelta un altro Però non l'ho potuto Non fermatevi a Nato Grande Andra Grazie Grazie Ruslan Andra grazie per la cena Sei gentilissimo Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Eccolo Lo scelto è che Lo scelto è che La nuove ci si sta Alla No la nuove ci si sta Tutto pronto, una zona di guerra Come finneso lungo? Ai non ce l'ho il pisello Ma non ho l'acqua, non ho l'angher Ah ce l'ho Ciao Silvano Come andiamo? No, non c'è contro Domanda Io voglio Come ce l'ho? La priorità è uccidere tutti i nemici All'attacco Guarda, non c'è nessuno Riligi di averti qui Fate i soldi Facciamolo a mirare Vai, ve lo fate Oh, fumo qua Di fronte, ragazzi Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Bello Uno qua, raggi Secondo piano Sta puntando il sale, occhio Sì, hai due Ingazzo Arrivo No, terra L'altro qua Dietro Sono morto Sono morto Fortunato Già HOPE NO, ho NO, HONO NO, HONO NO, HONO NO VOLA HONO NO, HONO RAGA, PUCCO RAGA, PUCCO RABA, A CASA NEU VAI 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 RAGA, VAI R Daily QUANTI OntenO THEN 2-2-2-2 lo faccio ah i 3 raga dai vado a 9 vado a 9 vado a 9 che c'è un po' il team su tope? io hanno fatto una top a terra a 9 che c'è un po' il da sopra fatti non abbiamo una taglia ragazzi la taglia da 3 ma chi è questa taglia non capisco uno sopra bravissimi facciamo due via raga per favore avete soldi voi vado top prison raga se volete raggiungetemi vai arrivo o adri se vi minaccio a tre ok com'è a uno raga te lo fai marco uno dalle marco bravo fatto cazzo che angelo è andato è andato questo adesso sei da in tutti i b10 no raga qua dall'elicottero dove sono i team raga prison ok adri che ce n'è uno no io sono su prison flyer raga sono verso arbor non ci credo non ci credo raga ne muore ce n'è uno top prison eh raga davanti a voi dietro di voi scusate quadri ma siamo qua alle poi non c'è più nessuno qua, sono a te amica c'è un soldato nemico si sente al sole non è che non avevo piatto si sente al sole il flyer là? si, ombra un luogo ragazzi siamo troppo in open, non abbiamo una meta è un soldato nemico su prison uno qua da tunnel, uno qua da tunnel raga è appena sceso è qua cazzo hai fatto andres cazzo cazzo avete colpe sniper? oh no way No way per quattro Uno qua sta scendendo Da nave E da mare Quattro E a terra Sì sì a terra Oh si è arrestato Non ci credo Non ci credo Ma quello che è successo in questo game Non so che dire Raga Non ci credo Ma non avete capito Non ho capito per le kill Ma per le kill Che ho tirato Ma sono stessche dai Bene Antonio Agostino Buongiorno Buongiorno Ma tu le vedi Madonna puttana Non avete capito Fai No 10 21 Mi so Scusate No Guardate 11 10 21 Non è mai successo C'è un'emozione per me Scusate Bip 11 10 10 21 No fate una foto No fate una foto Raga Ma ci andiamo conto Stavamo pure un po' difficili E per quello che Allora ti spiego Quando uno fa le kill Fa tante kill Le fa proprio perché Si riesce a splittare Si stacca un po' Se no Non le fai 50 kill di team 60 kill di team Ne fai sempre di team Poi a niente il team Le persone non rispondono mai Capito Questo è il problema Che non rispondono Perché se noi busciamo un team Facciamo sempre team wipe E quello poi viene nientato E non rispondono più E non rispondono più E non rispondono più Che partita raga Bellissimo 20 kill al naso Mamma mia Poi nel tempo Ragazzi ho imparato A scherzarci Di mio naso Mi facevo le battute Da sola Ragazzi ho due win su due Bravi E stamattina Sono tre win Gabriele Buongiorno La zona di guerra Mi aspetta Grazie a tutti Sì, 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 sì. Raga, andiamo qua, non colto il caso Ma vai Ah, non colto il caso Ah, Mark, dietro di me Dai, spacca sto ruolo Un C3 Sono tutti sotto Uno che si piastra Della porticina, Mark I passi sono in arrivo Mark, sotto uno Ah, mamma mia Lui a qualcuno si è messo i passi Sì, sì, c'è la rabbia Ragà, lo d'out, lo d'out Due sotto, due sotto Arrivo Arrivo Raga, andiamo sopra, andiamo sopra subito a fare l'oddy, venite Oh, io poi guardo che cambia il mio arena in cazzo Ragazzi, andiamo sopra uno shot Sì, sì Grazie, dai Tene uno ancora, attenti Eccolo Eccolo Vi saldi alla shop, raga Scale sotto Vabbè, raga, ma l'arai è troppo forte Sì, è fortemente superiore E' un soldato nemico Arriva un altro Da sopra, da sopra, dall'oddy Non uscite Anche sul tettuccio Non si crede Paglio Cazzo Uno sotto di voi, raga Palle, vuole la torri di un altro One shot, one shot da me, raga Vi prego Oh, occhio Occhio ancora sopra Che puntano il l'oddy Sì, facciamole una colletta Gabriele, buongiorno Il l'oddy ancora non l'ho preso Bravi Raga, d'apriso Non mi fanno Figa, un cecchino Fuori di set Dove andiamo, dove andiamo Che facciamo Raga, gente qua Andiamo a prison Subita, subita, subita Ok, nonno Basti Alla, dentro No, nonno Sì, c'è Sì, c'è Sì, c'è Proprio Arrivato un nemico De tal'un'idri-25 Amante così Morto, stequito Dov'è? Sì, piove, piove! Eh 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 Messo a terra, con sopra Ho una, con sopra Fate pinta di niente Mentre il nemico attivo Sì, piove, piove Di che scusco Pada mia, ragazzi Alcune scappate Un nemico attivo No, è una ragazza, ha bestemmiato orbe questa Ha bestemmiato e no, e no Raga, sopra di noi c'è un team Perché voi è andato papri Sono i miei miniatri Vado io Andiamo, andiamo, andiamo Ho un bambino Mattino, facciano uno qua sotto Vado dai quadri Bombardamento per il becco dentro Sei sul tetto, Adriel? Che? Eh no, mi devo sto qua a campare Merda Bello Bello Arriva No, no, no Devo dare una lina Ma per quale motivo non l'avevo? Tante ragazze Occhio, raga Sì, due secondi Ok Ciao, Marta Adoro la brutta No Vabbè, ha semnato? Sì, il bambino è stanzito Ciao, Micheli, grazie per la condizione Ragai, load out su presa o no? No No, il load out su contro si A contro Sono pure saldi Sono pure saldi Sono pure saldi Tieni, Mark Vieni con me, su presa, vieni Ragazzi, facciamoci quel team Uno aspetta l'ultima letta E' un'altra Che giocata di merda Occhio Occhio A che c'è nemmeno Adri 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 Cosa cosa? Sì, due due Ragazzi, pronti a me? Cosa ti gioca? Da dietro, da dietro Da torre, da torre, da torre bravi bravi mannaggia guarda si stronzi bravo di più non è morto un coltino e qua 4 4 oh ragà one shot obiettivo di voi one shot un altro ragazzi No, 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 ti saliti da dietro 1, 4, 1, 4 Sempre dietro? Grazie Da me, da me, da me la torre è qui da te adri ti buscia io purtroppo ho fatto la cavolona la cavoletta si dice però il car non l'ho mai usato devo dire la verità io ho sempre usato lo Swiss fantastico cioè il car è bellissimo poi lo usavo sempre sul car io lo usavo sul Verdans con il mirino quello zoomabile quindi è un po' diverso rispetto a quello che usavo io oh devo riuscire a mettere se il cavolo di levetta in questo joystick non ce la faccio mi chiede da ieri sera io non riesco a mettere la levetta allora Angelo io uso bus alto però ho anche il mixante non riesco a mettere la levetta io pure come la tetta d'Angelo però io le aspera 40 stavo con il mixante devo riuscire a mettere la levetta devo riuscire a mettere la levetta buongiorno 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 ragazzi stiamo? andiamo andiamo nuova ma non è verra ma che cazzo di nuova fate come veniva attraverso ah Uccidere tutti i nemici! All'attacco! Due, due! Mettessa! Non soppertete! Il tuo alleato è appena rientrato! Il tastro disurbatore! Vabbè, ho uno shot qui, secondo piano, se la mia palla mi ha ucciso! Ma non si può fare così! Ciao Francesco, Vincenzo, grazie per il live, buongiorno! Alla avanti! Attila! Entra l'altro! Entra l'altro! Entra l'altro! Entra l'altro! Non soccate che c'è l'altro resto giù! Ok, ok! Stanno sparando! Il lancio è rimossa! Una sozza! Un piccolo round! Un grande! Qua! Ragazzi, è sotto! Facciamo il lot di sotto, raga, per favore! Un attimo che mi sta laggando! Ok, ok! Arrivo! Vincenzo, come sai, sto bene? Faccio io, faccio io? No! Ricerca è iniziata, scopriamo nuovi giocatori! Guarda, ma stavo per morire secca proprio! Guarda, ma stavo per morire secca proprio! Andiamo a prison? Ok, ok! Top libero! Sotto, fronte! No! Non ci credo! Stop! Mamma mia che schifo Ma raga ma come si chiamano questi? Ma li stai vedendo come si chiamano? Mi sto collassando Raga qua è pieno di gente Io devi fare il lobby da qualche zona Io torno a tende Ciao Davide C'è il lobby, Marco ha fatto il lobby Ok C'è uno qua raga Lo faccio, lo faccio, prova Qua dentro Passa piastre Raga venite qua sopra Passamone Mi lasci soldi per lo abbia Se la spalla Uno qua Sì 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 andiamo a prendere tutti a casa hai fatto un altro bella robita no raga sopra nuova sopra nuova cifler ragazzi sapete che è cifler vero si anche sua mamma eh ovviamente si conosci si per te anche che la mamma insomma claudia buongiorno ragazzi per il like ragazzi il team è qua no cifler è per vero cifler cifler un altro ragazzi 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 no ragazzi dammi 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 porca miseria che stick che mi ha dato qua dietro qua qua non un attimo aiutateci raga aiutateci guardateci qua venite io sono safe qua sotto qua sotto caramellina no vabbè mi sto senti male raga claudia ciao luca come stai oh arrivano da non la donna sono buttate andiamo a tetto andiamo a tetto ah si mi servono piastra proprio tieni ho uno da me una nuova zona sicura gas in arrivo no raga sono safe sono safe mi fanno da prison attento adri raga sono sotto di noi i tuoi tappi non c'è un soldato e l'inzi due stadi teniamola a quadri vieni ok questo qua ci hit ha detto questo qua ci hit ha detto questo qua ci hit ha detto troppo fermini resti tornati alla normalità eh si si domanda doveva se vuoi essere prenderlo ma no qua non ci prendo se vuoi queste aggressione è troppo vicino non c'è lo fanno contrari perché non ci credete ragazzi cosa c'è da non crederci avete piastre tieni Mark fai il 2B tutti i gianzini sono raga in questa lobby ma andiamo sopra raga sopra ritorno non più disponibile sono tre sono abbassati i regali tutti qui abbassati abbassatevi mi raccomando raga Mark abbassati è vero è vero Claudio è brutto raga noi abbiamo la safe usciamo questi sopra usciamo questi sopra in quattro in quattro andiamo no dammi dammi raga sono safe da fuori raga da fuori intorno vieni sotto vieni sotto alla zona sicura dove sei nico eh io sono stai scendendo da Robby stai qui in teatro abbiamo perso le tue tracce sei al sicuro ragazzi ma non è possibile manco se lo vedo dai ma parta però è ma ragazzi non ho messo un sicuro c'è chi dai non ci credi oddio li vedi questi entran da qua non ci credi no peccato ah pure dietro ce l'avevi bravo bravo ma chi è questo banana 33 che mi invita ragazzi secondo me è Michele io lo so anche a me mi viene dato Michele deve andare non ha capito qualcuno di voi deve andare no vero no io ti ho detto che lo zio eh Michele Michele infatti si 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 Oscar buongiorno allora va benissimo Gabriel volentieri o comunque non abbiamo alla fine condizionato il tuo amico a fare la sub per 3 dollari ti rendi conto Gabriel? ma lui come una sigaretta il tuo amico mi diceva ma che cavolo è un pacchetto di sigarette cavolo ti piace Remo? ma questa volta è un'ottica a fare la subito no gabriel che vergogna ma gliel'hai detto no no gabriel ora prendiamo in giro come arriva ciao david buongiorno sembra un lobby di botto questo è vero allora gabriel dopo di questo c'è il posto ritorno si avvicina rapidamente si avvicina 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 qualcuno si è messo con la perca stupido io che cos'è? tu è un perca stupido gente raga gente da noi sono sotto gli alloddi e' qua dietro? si madonna mark ti senti? fino in capo al mondo e' qua? uno a destra altri raga raga tende 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 arrivo 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 oh non ci credo ciao lori buongiorno come stai? che fai? che fai? che i gas e' sempre più vicino uno due tre con te e' qua? e' dopo mi metto avvi il nemico attimo e' cazzo andato qua 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 lenta e' qua il nemico e' qui vatti sto sopra e' qua dietro? raga si si altri ce l'ho sopra io un attimo che arrivo trappone limite è avvistabile mancina spostanza raga guarda che è stracca e' li? guarda vabbè dai vabbè 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 da un altro ero la squadra qui dentro un po di soldi facciamo un Nuardo qualcosa? e' e' sveglia io scusa raga ero preso in panic e' dal no continuare le 2 le alleate di volo dategli la vado qua gente a tenda raga sono scendendo uno sopra il tetto uno qua nego che si son qua dentro hai piastre un attimo Roby che c'è uno di fronte raga sono contro no un cecchino questo lo voglio vedere ma dove che c'è ? no raga sono me sono due mi dice che problem hai si si Lorenzo finalmente è tornato il giorno per fortuna si Lorenzo come è andato il lodi ciao Michele no davvero c'è merda ah pure e uh il tiktok pura di cariozzi tiktok eh vabbè vai dall'odio a control ragazzi c'è un pultino però ho fatto c'è un po' c'è un po' io ho fatto c'è un po' è finito ragazzi sparate gente sopra gente tende sopra la macchina macchina due 2-3 oh vabbè ma vado a fare in culo ma direi da reclutare da fare in culo che vado a tutte non dormi cazzo non venire quali mamma mia antonino buongiorno io vorrei andare a bio ho preso mamma mia andiamo via vado a fare un sciacallo al volo al volo facendo le ragazze a testa facendo il volo guarda ne vantacce guarda ne vantacce guarda ne vantacce guarda ne vantacce facciamo il logio raga ok comprate le piazze per favore e non mi spara non mi spara non mi spara Stai parlando di noi? Si si No dammi dammi 2 Quanti armi? Uno va certissimo e l'altro no Ma sopra o sotto? Sopra Non ci credo Caservi Caservi Tu si si O vanno andati in safe raga E li aspettate da qua Andati a sneaky sneaky a destra Eh no quelli da presa non vi fanno Facciamo così Andate raga andate in safe Vi conviene vai vai bravo Bravissimo Bravo Eh Se andavate insieme raga ve lo facevate No 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 C'è C'è mancato poco Madonna si è bloccato tutte cose Io vorrei fare un po' di fortuna Io so che Mark deve andare via Ragazzi tutto staccato Va bene Alla prossima Alla prossima Mark Buona giornata Ciao ragazzoni Gabriele vieni a giocare Corri Ciao Oh ma è altri uscito? Tutti sono usciti No non ho capito altri che doveva fare Perché forse non doveva uscire Cioè è crashato Non è neanche più online esatto Arrivo ok io non ti vedo online purtroppo E non vedo nessun altro Bevo un po' d'acqua Sì Va bene Mi vuoi già vedere il dettaglio della Blixen? A me a Roby? Sì sì Sei? Aspetta Buongiorno Tanto Nino Ok vai aspetta Vai Convogliatore di rinculo Sì Johnson 9 Panda Sì L'altra ripetente L'altra ripetente Calcio Calcio rimosso Qualità? Sottocanna Compatta Ok SG98 Sì Caricatore 54 Gorenco Munizioni subsonici Impugnatura con tettuccia Sì sì E poi ho messo stabile E celerità Vediamo Vediamo Oh Gabriele non ti sento Vediamo un po' Ok Aspetta Dio Questa è un po' ora io chiedo i samba se vogliono giocare oh 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 rollate l'attrezzatura accettiamo prima della visione Grazie a tutti. 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 Oh, è strano che non esce se nessuno. Dove siamo tutti? Vai, troppo. Ah, è grotto, raga. Non c'è nessuno qua. Andiamo verso grotto, raga. Vabbè, arriva. Ah, è pieno. Ah, è grotto, raga. Non c'è nero, ma non c'è nero. Da grotto a down. uno che mi puscia uno qua a destra cazzo, 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 porca la piperna non si fa così c'è uno qua ultimo da me, ultimo da me non venire nico sono tre sono qua, sono qua uno, due, tre vai sono sceso, sono sceso c'è un ultimo sotto pure ecco, perfetto vabbè dai ho capito come funziona sto gioco che più fortuna oh, sta mappa mi fa sbroccare sta mappa fa sbroccare, sì, però è bello dai hai i tuoi bei punti provo ad andare a load di battaglia o no il gas si avvicina o a bazzona sicura per voi e fare di meglio fine ricerca, drone avviene non è possibile migliaia di dati io non ho neanche quello ma va proprio in due dove? da solo? dai, sì, sì, in due uno è scettissimo ehi, Francesco, buongiorno ce l'hai qua? ce l'hai qua? un altro di russa? è un altro qua, è un altro qua mentre mai piastra di sempre è un altro qua, è un altro qua è un altro qua, è un altro qua uno sta a segnare io, è un altro qua dai lì ma sono due lì arrivo magari viene da ragazzi non è un altro qua è un altro qua raga poi è fatti uno nella casetta il mio coltellino c'è proprio il ping cos'era? non so c'è il mio coltellino dove lo arriva no no raga non potete capire qua il ping, la connessione, il lag ma ti va senti? non lo so qual è il coltellino è buggato qua dentro qua dentro uno arrivo l'obiettivo è eliminare il bersaglio lanci una scostante Robby sono dietro sono dietro sono dietro qua l'altro ce l'hai davanti Robby bellissimo ciao ragazzi saldi facciamo niente niente abbiamo il 2b però l'obiettivo sistemato poi faccio faccio davanti a noi raga con i safe un puntino arrivo 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 da sopra arrivo da sopra nooo cazzo rollo raga siamo un bel fan di notte ragazzi qui abbiamo Francesco buongiorno ciao Raimondo un ternato un caos raga questa mattina e secondo me dove vai? a sinistra oggi hanno fatto il no no faccio il no fai a vedere mingos fatto grotto sotto andiamo c'è un ternato alla fine che cosa è troppo qua noi c'è la funzione ha fatto un ternato un ternato che la fai ciò ciò un ternato che qunes Siamo qua sotto Robby Oh c'è uno qua da me a Robby Te lo fai giuro No no sono arrivati sti gli altri Ci sei soltanto tu E' il sopravvivere fino all'arrivo dei reti forzi Oh c'è una rampetta Oh c'è una rampetta Oh c'è una rampetta E' anzi Peccato Ma è una gioia come dice Michele E anche tu hai ragione cazzo Io faccio questa roba è stato Che scoppiassi il C4 Io volevo ricaricare l'arma Capito? Siccome è lo stesso tasto Un casino Ciao padre buongiorno Ah ora si è al lavoro Un po' che ne è giocato La colpa comunque è tua Lorenzo Perché l'amico è più bello e non passi più live Questa è la verità Questa è la verità Arrivo Controllate l'attrezzatura Questa è la partenza Che cosa è la parola Adesso Un po' che riesco è la parola Questa è la parola Un po' che riesco è la parola Questa è la parola Questa è la parola Poi come vi trovate in questa mappa? Per vedere Rebirth, vero? A me piace un casino Però dipende, a volte l'amo, a volte l'amo Non c'è uno ieri di mezzo Possiamo andare, sapete dove raga? Al cimitero Come andiamo? Cimitero Uuuuh Let me finish this mappa E' un po' più da La priorità è uccidere Facciamo il loadout raga Contratto compleciato e pagamento attettuato Dov'è la mia percettuale? Perci i soldi Eh, fai il loadout vini io che ti ho pagato poco Non ho mai usato il perk Ok Carola Qua raga No, ho creato la giù Ho creato classe Perfetto Perfetto Di qua la taglia raga L'ultimo Che cazzo ha questo? Uno fatto, uno c'è aria Ho fatto anche questo Oh raga, sta arrestando, va Qua sotto C'era di qua, c'era qua a destra, va Eccolo Erano sotto, sotto, sotto Sì, sì Abbiamo uno dietro, 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 dietro di noi, raga Lo vedo, lo vedo Mi piastro, vivo No, non mi restare, non mi restare Sopra Minchia, con serpentino sto qua Ma se può andare in acqua, mica muoio Ma muoio Ma perché c'era, ce n'è uno anche qua Sopra, esatto No, non esce, esce Stai dietro Ce n'è uno qua, sta salendo qua Eccolo Ragazzi, anche uno qua sotto Vedo un movimento Uno qua, sta salendo Vedo un movimento Di fronte raga, qua, qua, qua dentro È sotto È qua Ok Ritorniamo al cimitero, raga, lo shop Di fronte a me Di fronte a me? Sì, sempre parti Sono sotto tiro Ci abbiamo qua Sì, sì Fatto Raga, 3 all out, 3 all hobby Arriva, ce li abbiamo anche dietro, Robby Madonna, da me Quanti? Uno, uno, uno No, no, non ci credo Lo faccio No, 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 no Autonomia, UAV esaurita Rientro alla base No, no, no Apri le casse Le casse dentro Ah, ma c'è gente dentro No, vabbè Vabbè, facciamo l'ultima, ragazzi Dai, facciamo l'ultimina E poi andiamo Perché così non possiamo morire Di tavolo Hola, Jay, I'm from Italy Ma sono proprio curiosa Di Warzone 2, ragazzi E praticamente tutte le skin che abbiamo Tutte le armi che conosciamo Non ci saranno più, probabilmente Cioè, le skin già si sa che non si possono usare Quelle che abbiamo shoppato fino ad ora Quindi, ciao, soldi spesi E poi non so manco se poi Io guardo che mettono il fuoco Eh, poi non so se Si potrà rigiocare a Rebeard A queste cose Cioè, se le tolgono definitivamente O se mettono direttamente in un altro gioco Cioè, questo è curioso Io penso che Warzone ci sarà sempre Nel senso Rebeard è questo gioco Come. Ciao. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh So tell me if you want me to I'm going to go ora ora sì sì bellissimo mamma mia la blixen fa paura allora ragazze nemo living e vediamo come va ci siete? sì sì ragazzi abbiamo gli occhi ma ragazzi non c'era shop facciamelo che lo dava dietro ma cazzo c'erro ah è la rabbia no vabbè attenti lì eh no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè che spavento ma dov'è questo? c'è gente fuori ho un flyer sopra tanto va sto cazzo da estro l'impatto abbiamo due qua eh raga sta sotto di me è sotto sono intanto a nico sono dietro di te andiamo sì sì vai vai eccolo è nel lancio aspetta aspetta che arrivi no vieni vieni è qua è qua è qua è qua è qua ci sono in arrivo gas in movimento facca raga c'è la macchina sopra lo shop andiamo gente sopra ma cosa fa sto sereo della rabbia? non ancora vediamo nella zona no non metterlo raga gente sopra di noi non muore arrivo arrivo sono dietro di te sopra sopra vabbè facciamolo a vita vabbè facciamolo a vita devo sottoscere una granata attenzione oh oh sono qua cintessa proprio sopra di chiaglia qua davanti ma questo me lo devo stare se no è un tattisco un altro raga facciamolo a vita vabbè andiamo verso di qua venite qui vengo verde guardi sta arrivando un nemico uafi nemico uafi nemico ciao franci oddio raga attenti ha lo doubt ha lo doubt dove 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 ha lo doubt oh c'è anche il quote qua di fianco eh occhio l'ha mollato l'ha mollato bravo è qua che sono qua che prendo i godi no 3 3 3 3 3 3 no 3 e 3 sono one shot guarda 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 sto tornando che mi piasto oh oh erano fattibili questi eh sono ancora lì sono verso se erano fattibili che mi ha sparato in due perchè se non giupavi ce l'avevo eccolo una terra aspetta nico due a terra guarda 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 oddio coprite per favore c'è un cieco che ha intervisto sono io sono io il cieco ah raga facciamo il doubt il doubt il web arrivi un po' indietro andiamo verso torre vedete lasci i soldi se si ne prende un altro ne prendo se ci prendono un grappolo io sto buscando raga vai vai faccio faccio si è buttati si è buttati si è buttati raga no niente allo shop raga si è buttati va bene ma raga one shot one shot mannaggia la puffa bravo bravo te lo fai che è one shot come va pranzi tutto bene qua con è uno qua guarda l'odd ma dai o arriva andate Gabriele occhio ok la macchina un altro si è buttato un altro tu puoi niente l'odd non si è scala non si è scala che cosa sta in un altro io torno c'è un soldato nemico mi stanno capendo mi stanno capendo questi scala mi stanno capendo mi stanno capendo mi stanno capendo mi stanno capendo bravo bravo raga io sono qui a grotta se volete venire a darmi una mano vai vai arrivo hai l'attivo 11 un rischio interno e copertura stop one shot one shot a me one shot una terra l'altro l'altra terra ok bravi arrivo ragazzi da voi proteggetemi un attimo volete qua piazza è qua oh macchina macchio raga ancora era un pazzo c'è uno qua c'è un altro c'è un altro è andato è andato è andato no 33 oddio ma rispondono io però prendo le armi così c'è uno qua uno qua ok vai 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 stavolta non ho fatto vai prenderlo qua sotto arrivo mi piace un secondo arrivo sei sceso roby avevo con le piastre non me ne da avete piastre sì ce l'ho io ce l'aiuto davanti a me uno davanti a me uno cazzo la patatica mi ha fatto dai faccio il resto grande quanti ne siamo sopra là almeno tre vabbè ci siamo in track lanciato un grappolo che fai mi sono buttato giù da solo non credo tutto in open grande grande proprio e dai là sopra tuono in movimento bombardamento di precisione nemico che schifo che mi fate dove la piazza scusa in avvicinamento nuova zona sicura madonna mia no questi devono spegnere tutto il tempo camperati là sopra ma ci rendiamo conto bravi 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 bellissima ragazzi con questa win io vi abbandono per oggi domani mattina ragazzi ci sarà martina probabilmente credo grazie ragazzi grazie fabri ciao robin mamma mia no veramente li ho proprio spavolati ciao a casa ragazzi amico gabri io vi saluto e vado questi non giocheranno più ciao ragazzi ragazzi in chat io vi saluto con questo endgame ma pazzesco questi non giocheranno più probabilmente mamma mia ragazzi fate buon pranzo grazie mille per la compagnia ok un bacione ciao guys ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti